Sono nove le misure cautelari, tre in carcere, cinque ai domiciliari più un obbligo di dimora eseguite nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Cosenza, scattata all'Albincittà e nei comuni di Rende, Montaltofugo e San Benedettullano, Torano Castello e Lattarico. Una trentina, complessivamente le persone coinvolte nell'indagine. Sono tutte accusate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. All'esito delle perquisizioni, ulteriori tre giovani di Cosenza sono stati arrestati perché trovati in possesso di oltre un chilo di marijuana e modiche quantità di Aschis, 20 funghi allucinogeni e 1.000 euro ritenuto e provento dell'attività di spaccio. Altre tre persone sono state denunciate in stato di libertà. Le indagini sono state avviate dai carabinieri nell'ottobre del 2016. Nel corso delle stesse era stato arrestato anche un autotrasportatore di farmaci di Torano Castello, il quale svolgeva il ruolo di corriere della marijuana che veniva prelevata nel Regino e portata in Campania. L'uomo, che nascondeva gli stupefacenti nell'intercapettine del furgone, trasportava 5 kg di marijuana. Le forniture di droghe, inoltre non pagate dai tossicodipendenti, diventavano crediti non pagati ai pusher che minacciavano i debitori e le loro famiglie. Ricostruite e cristallizzati oltre 110 episodi di spaccio. Il procacciamento della droga avveniva attraverso contatti con esponenti della criminalità organizzata campana e regina. Propaggini, infatti, sono stati individuati in Campania e a Reggio Calabria. Quattro persone sono accusate di aver obbligato due ragazze di nazionalità romena a prostituirsi, sfruttando la loro situazione di indigenza dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tre sono destinatari di misura cautelare, mentre un quarto è stato denunciato. Le donne risiedevano a Montaltofugo, ma vista la maggiore richiesta e il richiamo turistico, sono state poi portate a Scalea.